Si chiama Abigail Arias, una bambina di soli 6 anni di età, malata purtroppo di cancro ed è riuscita a realizzare il suo sogno, quello di una vita. È del Texas, grazie al dipartimento infatti di polizia di Freeport, la ragazzina ha realizzato il suo sogno, quello di diventare una poliziotta. I veri cattivi sono i miei polmoni, così avrebbe detto durante la cerimonia ufficiale, visto che potrebbe non riuscire a vivere a lungo da poter diventare effettivamente una poliziotta vera e quindi concreta. La bambina infatti ha un nefroblastoma, il cosiddetto tumore di Williams, è una neoplasia renale primitiva, molto frequente in età infantile di tipo maligno. I medici purtroppo non hanno dato molta speranza alla piccola e hanno deciso ai genitori di far realizzare a questa bambina il suo sogno più grande. Infatti l'hanno fatta vestire da belli uniformi, quella della polizia, e ha giurato di nasce ai suoi, mettiamoli tra virgolette, colleghi di lavoro. Insomma, la felicità è stata tanta e si è apparisata nel voto della ragazzina in questione. Complimenti dunque a lei, agli altri, un salutone, iscrivetevi al prossimo video da Naruto Italiano.